Abbiamo fatto una partita importantissima, una grandissima partita contro una grandissima squadra. Sapevamo che non era facile, abbiamo preparato bene, anche con un po' di fortuna abbiamo vinto. Di cose positive ce ne sono tante. Un po' di rimpianti ci sono, però va bene così. Secondo me un po' di stanchezza, soltanto un po' di stanchezza secondo me, però oggi ci siamo ripresi con una grandissima partita, facendo una grande prestazione contro una grande squadra. Noi dobbiamo pensare soltanto a vincere le prossime due e poi dopo quel che sarà, sarà. A Catania non c'è bisogno, lo dico io, c'è una grandissima squadra. Però noi penso che possiamo giocarcela con tutti, con qualsiasi squadra, l'abbiamo dimostrato.